Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Il voto che propose gli italiani all'estero era un esponente della Repubblica Sociale Italiana. Almirante stesso, fu vice direttore della difesa della razza. Quindi è vero, il Movimento Sociale Italiano affonda le sue radici, i suoi quadri dirigenti nel post fascismo. Pietro ride, non c'è nulla da ridere in realtà, ma è così. La Giorgia Meloni in realtà è vero, è più Trump. Giorgia Meloni è più Orban. Sul tema dei diritti civili guarda più altrove, certo non guarda a quella storia da cui deriva l'Italia. Quindi il vero tema oggi è esattamente questo qui, capire se la Meloni sarà in economia europeista e sul tema dei diritti civili sulla linea di Orban. E ora arriviamo anche con la professoressa Forza.